203 nuovi casi in Abruzzo su 3.222 test processati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 7 mesi e 101 anni. Dei nuovi casi 83 sono riferiti ad un unico focolaio in una struttura per anziani nella provincia dell'Aquila. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 491. Si tratta di una 81enne e di una 57enne della provincia di Chieti. I positivi di oggi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 5 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 1993 più 192 rispetto a ieri. Di questi 159 pazienti più 5 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 10 in meno 5 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri in 1824 più 192 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.